Purtroppo abbiamo provato in tutti i modi per cercare di postarla a casa, però la loro fisicità, soprattutto nel reparto lunghi, l'abbiamo sofferta tanto. Abbiamo provato in tutti i modi a cercare di tenere a bada Vankelov e Biagio Sergio, però stasera stavano in una giornata più che positiva in vista dei rimbalzi. Infatti a differenza sostanziale stavano i 47 rimbalzi totali presi da loro e 37 da noi, ma soprattutto i 17 rimbalzi offensivi d'ora e 6 nostri. Quindi regalando 11 rimbalzi offensivi e 11 possessi a Sant'Antimo logicamente la partita si chiude lì. Peccato che gli ultimi 4 minuti più o meno del secondo quarto che abbiamo preso quel break, abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio di recuperarlo, però comunque siamo riusciti a entrare in partita comunque anche nel terzo quarto, cosa che da parecchio non facevamo. Dobbiamo risettare prima possibile questa partita, prendere quello tribuna che si è fatto e pensare subito a mercoledì alla Lius perché giocando in casa dobbiamo a questo punto assolutamente vincere perché la classifica ora è abbastanza brutta e dobbiamo a tutti i costi cercare di stappare le partite in casa e di vincere, stappare punti importanti in casa.